Pescatori di Sciacca in stato di agitazione protestano contro l'aspiramento e le sanzioni imposte all'Unione Europea in caso di cattura accidentale di tonne e pesce spada nei periodi non consentiti. Oggi assemblea alla marina. Il no del tarra al ricorso del Comitato per la trasparenza dei costi e il servizio ai rifiuti sblocca l'affidamento dell'apparto alla dittasia di Sciacca. Intanto i lavoratori della Sogeira ancora senza stipendio sono pronti a tornare a protestare. Marcia indietro del libero consorzio tra comuni di Agrigento. Non sarà più chiusa al transito veicolare la strada Sciacca-Salinella. Rimane solo il limite di 30 km orari. La chiusura avrebbe danneggiato le aziende agricole della zona. Strade rurali presentati alla regione progetti per 150 milioni di euro e il triplo dei fondi disponibili. Il Comune spera di ottenere i 400 mila euro necessari per poter intervenire sulla strada di località Nadore. Il Carnevale di Sciacca pronto a sbarcare in Tunisia. I proprietari di un noto resort di Amamet vogliono riprodurre una sfilata dei carri allegorici dalle loro parti. Un'opportunità interessante per le maestranze e saccienze. Integrazione e legalità. Un gruppo di studenti del liceo scientifico Enrico Fermi, indirizzo scienze umane, ha incontrato oggi gli ospiti del centro di accoglienza per richiedenti asilo politico gestito dalla cooperativa Arcobaleno. Un cordiale saluto, ben trovati su Telemonte Cronio per il consueto appuntamento con l'informazione. Marineria di Sciacca è stato di agitazione contro l'inasprimento delle sanzioni imposte dall'Unione Europea. In pratica, in caso di cattura accidentale in un periodo non consentito di tonno e pesce spada, le sanzioni vanno da 2.000 a 150 mila euro. Non ce la facciamo più, siamo pronti a declatanti iniziative di protesta. Hanno dichiarato questa mattina armatori e pescatori. Il primo dei nostri servizi. Noemi Tumiolo. Monta la protesta della marineria Saccenze contro il regime sanzionatorio in materia di pesca imposto dall'Unione Europea. Nel mirino le disposizioni contenute nella legge 154 del 28 luglio del 2016, che introduce per l'appunto rilevanti modifiche al sistema sanzionatorio in materia di pesca, stabilendo l'applicazione delle nuove sanzioni amministrative. Armatori e pescatori hanno dichiarato lo stato di agitazione e questa mattina si sono riuniti in assemblea. Una protesta che ha già visto una delegazione delle marinerie siciliane manifestare a Roma contro inasprimento delle sanzioni. Ci sono dei pescatori a Roma che stanno combattendo una lotta veramente incredibile, perché noi siamo sanzionati non come una multa di una macchina a 25 euro, si riscute 2-3 mila euro, punti di patente, licenze bloccate. Sarebbe a dire io mi faccio un pescretto dopo una vita di sacrifici, viene lo stato, alla seconda volta me la toglie. Ma dove stiamo arrivando? Dittatura o non lo so? Se questa è dittatura oppure conviene rubare anziché lavorare, me lo dite voi o non so chiunque sia capace di spiegarmelo, perché io non riesco più a capire niente. Cosa pensate di fare? Sicuramente se i colleghi di Roma cercheranno aiuto noi andremo a Roma a sostenerli e a sostenerli abbastanza ferocemente, perché è inutile sempre che con le chiacchiere non si risolve niente. Ci vogliono azioni forti forse, a questo punto penso. Non ci facciamo più a campare, qui 365 giorni lavoriamo neanche 60 giorni, un po' per lo sciopero, un po' per quello. Ora questa cosa stanno facendo, è una cosa bruttissima, siamo arrivati proprio all'estremità, non si può campare più. Voi siete pronti anche ad azioni eclatanti? Subito, ora c'è la riunione qui e poi siamo subito a partire tutti assieme, a lottare tutti assieme, tutti. Speriamo di risolvere qualche cosa perché non si può campare più, la famiglia non si può campare più. E' questo, siamo nelle mani di Dio, speriamo che ci aiuta perché c'è tante famiglie che ce la fanno più, non può essere. Un amatore che si compra attività e poi non può lavorare, così non può essere. Troppo liggi brutti, brutti, brutti. Al fianco della marineria le due cooperative di Pesca Saccenzi. L'introduzione di una norma, la legge 154 del 2016, che nel depenalizzare alcune infrazioni che possono essere commesse dai nostri armatori e pescatori, ha però introdotto un regime sanzionatorio amministrativo molto pesante. Giusto per fare un esempio e per rendere l'idea, nel caso di cattura anche accidentale di esemplari di tonno o di pesce spada in periodo vietato, la sanzione amministrativa può arrivare fino a 150 mila Euro. Capite benissimo che una situazione del genere è insostenibile e le marinerie d'Italia si sentono oppresse da normative sempre più stringenti come queste e quindi hanno deciso quasi autonomamente di scendere in piazza. In questi giorni ci sono dei sit-in in tutte le marinerie d'Italia, c'è una importante delegazione che è presente a Roma in questi giorni e la marineria di Sciacca già in questi giorni è stata ferma. Ieri abbiamo dichiarato congiuntamente a tutti gli armatori lo stato di agitazione comunicato agli organi preposti e questa mattina si sta tenendo una ulteriore riunione per capire un attimino quali possono essere le ulteriori azioni da intraprendere. Veramente il settore si sente oppresso dal legislatore, voi comunitario o voi nazionale, che non riesce a capire veramente che chi va per mare non è un ladro o un bandito, ma è semplicemente una persona che tenta di portare un po' di pane a casa. Ci si accorge che la classe politica ci ha abbandonati, specialmente la classe politica più che altro europea, oltre che quella nazionale, dove si fanno le leggi, non si tiene conto dei bisogni della marineria, delle leggi che fanno in maniera effettivamente troppo pesante e esagerata, come questa, la legge questa 154, dove prevede sanzioni inaccessibili per chiunque per poterla pagare. Tutto deve essere proporzionato al reato commesso e alla pena la pagare, e non fare delle sanzioni che siano talmente esagerate, che non si possono neanche pagare, che si parla da un minimo di 70 mila o al massimo di 140 mila euro. Non penso che comunque nessuno potrebbe essere in grado, anche se commette un'inflazione, di poter pagare una sanzione del genere. Finalmente siamo tutti uniti e siamo pronti a fare battaglia pure noi, a scendere in campo contro la legge 154, che sta mettendo a serio rischio la vita di queste aziende e delle nostre famiglie. E questa mattina l'assemblea che si è svolta alla Marina, oltre ai vertici delle due cooperative di pesca, hanno partecipato anche il sindaco di Sciacca, Fabrizio Di Paola, e il deputato regionale Saccense, Matteo Mangiacavallo. Sentiamo i loro commenti. Pieno sostegno dell'amministrazione comunale di Sciacca, la battaglia intrapresa dalla marineria contro l'inasprimento delle sanzioni in materia di pesca. Questa mattina all'assemblea nella zona portuale ha partecipato il sindaco Fabrizio Di Paola. A me sembra che in questo momento ci sia un sistema normativo che prevede delle conseguenze assolutamente irragionevoli, completamente prive di qualunque corretto presupposto, anche di aggancio a presunte normative europee. Credo che veramente abbiano ragione i nostri armatori, i nostri pescatori a protestare per questo sistema di inasprimento delle sanzioni, che prevede delle misure che sono veramente fuori luogo. Quindi sono qui a dare la mia solidarietà, sapendo però tuttavia che la tipologia di questione è tutta di natura parlamentare, tutta di natura nazionale, quindi evidentemente ci sono organismi e soggetti politici che devono lavorare verso una direzione che io ospicherei di riforma normativa rispetto al dato più importante che è questo dell'inasprimento delle sanzioni che mi sembra veramente, come dicevo, irragionevole. C'era anche il deputato regionale Saccense, Matteo Mangiacavallo, dura la sua critica nei confronti del governo nazionale. A prescindere da quelle che sono i dettati dell'Unione Europea, abbiamo un Parlamento in Italia, quindi dei nostri rappresentanti, dei nostri anche amministratori a livello centrale, che non solo non vanno a rappresentare all'Europa, che c'è un discorso da tener conto, cioè che qui abbiamo una serie di prerogative che sono diverse da tutto il resto d'Europa, ma che applicano le sanzioni chieste dall'Europa in maniera proprio spropositata, al massimo di quello che sarebbe pensabile. Questo non è accettabile, non è accettabile perché significa che esiste veramente una realtà di chi ci governa e di chi siede in Parlamento che è sconnessa da quella che è la realtà dei fatti, cioè non capisce nemmeno quello che stanno vivendo le nostre attività produttive. le mettono a collasso. Piano Aro, il Comune di Sciacca procederà all'affidamento del servizio alla ditta SEA che si è giudicata nei mesi scorsi e l'appalto espletato dall'Urega. La decisione arriverà dopo che il TAR ha respinto la richiesta di sospensiva presentata al Comitato per la trasparenza dei costi del servizio di nettezza urbana. Intanto i lavoratori della Sogeir attendono ancora il pagamento degli stipendi e annunciano nuove proteste. domani mattina assemblea nei locali della società d'ambito. Maria Genuarti. Sul piano Aro un primo pronunciamento da parte del TAR è arrivato. La richiesta di sospensiva presentata dal Comitato per la trasparenza dei costi del servizio è stata respinta. Per l'amministrazione comunale di Sciacca si tratta di un passaggio comunque fondamentale in relazione a quello che potrà essere il giudizio di merito sul ricorso presentato dal Comitato Saccense. Il TAR ha rigettato la richiesta di sospensiva sulla procedura Aro, quindi sulla delibera di Consiglio Comunale su tutti gli atti conseguenti ritenendo non sussistente il Fumus Bon Iuris anzi facendo una valutazione sugli interessi che erano in gioco tutta favorevole all'interesse pubblico di inizio del servizio e nelle pieghe dell'ordinanza facendo anche una valutazione di più ampio respiro circa la possibile accoglibilità del ricorso che allo stato degli atti non appare assolutamente verosimile e probabile. L'amministrazione intanto sulla base della decisione assunta dal Tribunale Amministrativo Regionale ha ripreso l'iter per l'affidamento del servizio previsto dal Pianuaro alla ditta SEA che si è aggiudicata nei mesi scorsi l'appalto espletato dall'Urega. Noi abbiamo in questo momento un provvedimento esecutivo anzi abbiamo un provvedimento di un giudice che obbliga la pubblica amministrazione all'esecutività quindi credo davvero che possa riprendere. Intanto i lavoratori di Sogeir hanno nuovamente proclamato lo stato di agitazione e domani mattina si riuniranno nei locali della società d'ambito per protestare contro il mancato pagamento degli stipendi. Una situazione che non può continuare commenta il Sindaco Di Paola che poi attacca il Comitato per la trasparenza dei costi del servizio. Queste situazioni ci devono portare sempre di più a fare in fretta per cambiare sistema cioè questi scioperi non sono motivati dall'atteggiamento del Comune che è sempre stato regolare nel pagamento dei contributi alla Sogeir Il problema è tutto il sistema che è imploso perché ci sono Comuni che non pagano ci sono Comuni che pagano in ritardo alla fine siccome però il Comune più grosso è il Comune di Sciacca ecco che chi ne subisce le conseguenze maggiori siamo noi quindi a maggior ragione noi dobbiamo andare avanti per eseguire e attuare la scelta che a suo tempo abbiamo fatto e ne vorrei approfittare per invitare le associazioni perché poi alla fine questo ricorso è un ricorso che è firmato da un comitato che vorrebbe fare, ritengo, interessi pubblici in realtà però io vorrei ricordare che non si possono inventare cavilli giuridici per fare gli interessi pubblici gli interessi pubblici bisogna farli correttamente e quindi questo ricorso ha fatto perdere del tempo al Comune di Sciacca nell'attuazione del servizio ha provocato un dispendio di risorse perché io ricordo per esempio che noi nell'appalto prevedevamo anche la pulizia del carnevale che invece abbiamo dovuto appaltare all'esterno abbiamo dovuto incaricare un legale stiamo ritardando nei processi di raccolta differenziata cioè tutta una serie di cose che evidentemente hanno sortito degli effetti pregiudizievoli per il Comune il Tribunale di Sciacca ha assolto il sacenze Mario Giuseppe Catania che era accusato di scommesse illecite su competizioni sportive e su corse di cani in qualità di titolare di un'associazione sportiva che gestisca a Sciacca un centro scommesse online l'uomo era stato accusato di avere consentito e favorito scommesse su partite di calcio nazionale e internazionali e sulle corse di cani su siti non autorizzati il giudice monocratico lo ha assolto perché il fatto non sussiste in particolare dichiara l'avvocato Mauro Tirnetta legale di Catania è stato dimostrato che il reato in questione richiede la prova di una vera e propria attività organizzata al fine di ricevere scommesse illecite e non della sola effettuazione di singole scommesse come comunicato nei giorni scorsi a Ribera il Dipartimento regionale della protezione civile ha inviato al Comune di Sciacca una nota con riferimento ai danni subiti dall'alluvione da parte dei privati il Dipartimento ha richiesto che le domande a suo tempo inviate vengano integrate con una scheda tecnica predisposta alla stessa protezione civile che deve essere compilata da ogni interessato e depositata presso il Comune di Sciacca presso l'ufficio protocollo il Comune poi inoltrerà le schede alla struttura della protezione civile i privati possono scaricare copia della scheda sul sito internet istituzionale del Comune di Sciacca www.comunedisciacca.it all'interno del link denominato emergenza nubifragio si tratta della prima icona nella colonna a destra dell'home page si invitano pertanto tutti gli interessati ad attivarsi immediatamente onde potere consentire che tutte le pratiche vengano istruite correttamente la mancata o temperanza di questo obbligo determinerebbe infatti la perdita del contributo dietro fronte del libero consorzio di Agrigento non sarà chiuso al transito veicolare così come era stato annunciato nei giorni scorsi la strada Sciacca-Salinella la decisione di mantenere aperta l'arteria seppure con il limite di 30 km orale è stata assunta questa mattina dopo un sopralluogo effettuato dal vice sindaco Caracappa assieme ai funzionari dell'ex provincia la chiusura avrebbe determinato gravi danni alle aziende agricole della zona vediamo si potrà continuare a transitare sulla Sciacca-Salinella l'arteria che ha subito ulteriori e pesanti danni negli ultimi mesi a causa del maltempo ragion per cui il libero consorzio di Agrigento ne aveva annunciato nei giorni scorsi la chiusura questa mattina a Sciacca sono arrivati i tecnici dell'ex provincia che assieme al vice sindaco Silvio Caracappa hanno effettuato un sopralluogo una delle arterie più importanti della città stante che è interessata dal traffico che riguarda alcune aziende agricole ma che sulla stessa strada passano anche molti mezzi pesanti che vanno a scaricare presso la discarica di Salinella la questione peraltro anche sollecitata e ringrazio il consigliere Simone Di Paola è stata ampiamente affrontata e anche dietro nostro suggerimento ringrazio peraltro l'ufficio tecnico rappresentato dall'ingegnere Tulone siamo riusciti a divenire ad un accordo che intanto prevede che la strada rimarrà aperta quindi vogliamo evitare lo spauracchio che si era generato in queste ultime ore quindi l'obiettivo era quello di mantenere aperta la viabilità e quindi la decisione è stata questa certo, tenuto conto anche che in alcuni tratti del percorso ci sono delle zone franose e che presentano alcune criticità sicuramente verrà apposta un'apposita segnaletica che ridurrà la velocità e quindi a tal proposito io chiedo a tutti soprattutto gli autisti dei mezzi pesanti di un attimo rivedere la velocità degli stessi mezzi e quindi è nostra intenzione anche dietro di con loro interessamento perché ricordo che la proprietà è del libero consorzio di procedere quanto prima possibile a degli interventi anche tamponi che comunque permettano un transito regolare L'ingegnere Michelangelo Di Carlo del libero consorzio di Agrigento ha evidenziato le notevoli criticità dell'arteria Effettivamente la strada rappresenta delle notevoli criticità dovute sicuramente sia alle alluvioni che ci sono state a novembre, 24 e 25 novembre mi pare sia alla recente alluvione di gennaio quindi si sono create delle buche si sono create dei dissesti però globalmente considerato anche l'utilità di questa strada per l'utilizzo che ne fa il comune di Sciacca per la presenza della discarica riteniamo che un limite di velocità magari a 30 km orari possa in ogni caso mantenere una certa sicurezza nello stesso tempo la transitabilità della strada Il libero consorzio ha già richiesto un intervento alla protezione civile per la messa in sicurezza della Sciacca Salinella per un importo di 80 mila euro Progetti per 154 milioni di euro a fronte di una disponibilità finanziaria di appena 54 milioni di euro sono i numeri del bando per la viabilità rurale resi noti dall'assessorato regionale all'agricoltura il comune di Sciacca ha partecipato con il progetto di manutenzione della strada di Contrada a Nadore per un importo di 400 mila euro ma la speranza di vedere accolta l'istanza si assottiglia e occorrerà aspettare comunque il mese di settembre per la graduatoria ce ne occupiamo in questo servizio 236 le stanze pervenute all'assessorato regionale all'agricoltura alla scadenza del bando che mette a disposizione 54 milioni di euro per il ripristino delle strade rurali di queste 79 sono le richieste pervenute dai comuni e 157 quelle dai privati per un importo complessivo di 154 milioni di euro cifre che testimoniano qualora ce ne fosse bisogno le condizioni di disastro in cui versa la viabilità rurale in Sicilia visto che le richieste sono di gran lunga superiori alla dotazione finanziaria già dichiarato l'assessore Cracolici si è deciso di collegare i progetti immediatamente canterabili presentati dai comuni che non otterranno in questa fase il finanziamento richiesto alle risorse del piano per il sud viene poi annunciato un altro bando a fine estate ma di 20 milioni di euro cifra irrisoria rispetto alle esigenze della viabilità rurale insomma grande aspettativa ma la delusione è dietro l'angolo perché è già chiaro che la maggior parte delle stanze presentate nelle scorse settimane non potrà essere accolta il comune di Sciacca ha partecipato al bando con il progetto relativo alla manutenzione straordinaria della strada di Contrada Nadore per un importo di 400 mila euro occorrerà attendere la graduatoria per capire se sarà messo a finanziamento ma i tempi non saranno comunque brevi l'assessorato regionale all'agricoltura annuncia che la graduatoria sarà pubblicata entro il mese di settembre ammesso che il progetto del comune di Sciacca venga accolto c'è poi da tenere conto dei tempi di espletamento e giudicazione della gara intanto giusto per rimanere in tema di viabilità il settore infrastruttura e del libero consorzio di agrigento in seguito agli eventi atmosferici di gennaio e febbraio che hanno ulteriormente compromesso la già difficile situazione della rete viaria provinciale ha effettuato un'accurata ricognizione delle strade di sua competenza finalizzata alla richiesta dello stato di calamità naturale la richiesta sarà inoltrata alla regione siciliana al Dipartimento regionale della protezione civile per ottenere i finanziamenti indispensabili alla messa in sicurezza e al ripristino dei tracciati stradali danneggiati e si aggiungerà a quella inoltrata lo scorso dicembre dal commissario straordinario Roberto Barbieri per l'alluvione che colpì tra il 24 e il 25 novembre il comprensorio di Sciacca e Ribera la ricognizione fa seguito alla riunione convocata nei giorni scorsi dal prefetto di agrigento per fare il punto dei danni riportati dalle strade statali e provinciali in seguito alle forti piogge della prima settimana di febbraio e sono un centinaio le schede tecniche redatte dal settore infrastrutture stradali per la stima degli interventi urgenti di messa in sicurezza tra le situazioni più critiche spiccano in particolare la provinciale Racalmuto-Monte d'Oro e la Sciacca-Caltabellotta-San Carlo per le quali sono stati richiesti i finanziamenti di maggiore consistenza tamponamento a catena sulla Palermo-Sciacca 5 l'auto coinvolta nell'incente stradale avvenuto ieri sera sullo scorrimento veloce in direzione Palermo all'altezza del Bibio per Altofonte a causare la serie di tamponamenti è stata un'auto che uscita fuori strada si è schiantata contro il guardrail ribaltandosi ferito il conducente tempestivamente soccorso dell'ambulanza del 118 ma per fortuna pare non sia in pericolo di vita sul posto i carabinieri della compagnia di Monreale che dovranno accertare la dinamica di Dosalus non balneabile torniamo a Sciacca nuovi controlli sanitari sul tratto di costa interessato dal divieto a chiedergli all'aspe di Agrigento il sindaco Fabrizio Di Paola che nei prossimi giorni convocherà una conferenza di servizi con i responsabili del Dipartimento di Prevenzione di Sanità Pubblica dell'ASP per il sindaco occorre infatti avviare un nuovo monitoraggio della costa sottoposta a divieto così come viene per tanti alti tratti invece che rinnovare di anno in anno un divieto sulla base di fatti datati che nel tempo potrebbero essere invece cambiati il carnevale di Sciacca potrebbe sbarcare in Tunisia i proprietari di un noto resort di Amamet infatti sono intenzionati a riprodurre una sfilata di carri allegorici in terra magrebina ci racconta tutto in questo servizio Massimo D'Antoni i carri del carnavale 2017 pronti a sbarcare in Tunisia rientra nell'ambito di un programma di gemellaggio tra Sciacca e Amamet l'iniziativa del noto resort di Arled Minah un paradiso di 90.000 metri quadri situato sulla costa magrebina che attraverso un proprio emissario ha ufficialmente comunicato al comune di Sciacca l'intenzione di riprodurre le sfilate carnascialesche a beneficio dei clienti ma anche della stessa popolazione nordafricana un'operazione work in progress con una sorta di trattativa tuttora in corso ma che comunque dovrebbe concludersi con successo nel breve volgere di pochi giorni un'operazione che naturalmente permetterà alle associazioni culturali coinvolte di poter ottenere anche una gratificazione di tipo economico le modalità organizzative di questa spedizione del carnavale secenze in terra di Tunisia sono tuttora in fase di analisi trasportare dei carri allegorici naturalmente non è un'impresa semplice ma i proprietari del resort sono intenzionati a dare concretezza al proprio progetto carnevale di Sciacca che dunque scopre la possibilità di poter esportare la sua manifestazione nell'ambito di un possibile avvicinamento significativo con un'altra cultura ma anche con la possibilità di farsi conoscere anche da gente di altri paesi se si considera che la nazionalità dei clienti di un resort di questo livello si tratta di un quattro stello è sicuramente la più variegata che si possa immaginare l'assessore Salvatore Monte oggi conferma al nostro telegiornale di aver parlato con i rappresentanti del resort e di aver già contattato i capi delle singole associazioni culturali che potrebbero essere coinvolte nell'operazione evidentemente si vuole temporeggiare così prima di distruggere i manufatti in cartapesta o al contempo si vuole anche evitare che alcuni dei singoli pezzi più pregiati vengano venduti a maestranze di altri comuni italiani dove ogni anno si organizzano manifestazioni carnevalesche come quella di Sciacca insomma la conferma di questa vicenda è che il carnevale oltre ad essere una delle impronte della cultura della tradizione dell'identità della città di Sciacca è anche un possibile punto di riferimento per la stessa crescita economica normalmente iniziative come la possibilità di una sfilata nella sponda opposta del Mediterraneo potrebbero far parte di un'offerta organizzata all'interno di una fondazione cosa che però si sa a Sciacca non c'è e per ragioni diverse non ultime quelle di tipo politico ma questa è un'altra storia è Sergio Tancredi il nuovo capogruppo del Movimento 5 Stelle all'Ars il parlamentare del Trapanese succede al Sacenze Matteo Mangiacavallo in virtù della rotazione semestrale stabilita dalle regole interne del gruppo sono stati messi importanti dichiara oggi Mangiacavallo nei quali il Movimento ha raccolto la vittoria al referendum costituzionale dato il via alla campagna elettorale per le prossime regionali parcheggio Catusi in stato di abbandono a denunciarlo il consigliere comunale Mario Turturici in un'interrogazione all'amministrazione comunale in cui chiede le ragioni della mancata sistemazione del parcheggio nei giorni del carnevale con interventi di pulizia che afferma il consigliere avrebbero reso presentabile una delle aree di sosta gratuite vicino al centro storico ai visitatori il parcheggio aggiunge Turturici di recente realizzazione non riceve cure e manutenzione dall'amministrazione e dello stato di abbandono si sono accorti anche i turisti in questi giorni la società Girgentiacco ha istituito un nuovo numero verde di pronto intervento attivo 24 ore su 24 per contrastare le situazioni di emergenza si tratta del numero 800 64 2507 gratuito sia da numeri fissi sia dai cellulari Girgentiacco scusate garantisce assistenza immediata per quanto riguarda perdite idriche alterazioni delle caratteristiche di potabilità dell'acqua distribuita guasti occlusioni di condotta o canalizzazione fognaria e desondazioni rigurgiti di reflui sembra essere superata la crisi economica per il cupo di Agrigento stanno per essere attivati due nuovi corsi di laurea in veterinaria e in mediazione culturale in sinergia con le università di Messina e di Enna si valuta anche la possibile attivazione del corso in economia del turismo a Sciacca ma prima occorre trovare la copertura economica Calogero parla piano rilanciare l'azione didattica del cupo di Agrigento tramite la collaborazione con altre università siciliane e tramite l'attivazione di nuovi corsi di laurea che possano attirare gli studenti del territorio questo è l'obiettivo del presidente del cupo Gaetano Armao e del suo CDA all'indomani della sentenza del TAR che ha rigettato la richiesta ingiunzione di pagamento da 9 milioni di euro presentata dall'università di Palermo e relativa al pagamento dei docenti incardinati al polo fino allo scorso 2010 insomma torna l'ottimismo attorno al polo universitario di Argentino e la fase più delicata sembra essere passata i vertici del cupo stanno lavorando all'attivazione di due nuovi corsi di laurea uno in veterinaria in collaborazione con l'università di Messina e l'altro in mediazione culturale probabilmente in sinergia con l'università di Enna una delle migliori a livello regionale la crisi economica non è del tutto superata anche in virtù del ridicolo contributo che la regione siciliana assegna ai poli decentrati ma adesso si guarda con maggiore ottimismo al futuro la presidenza del cupo dunque guarda con sempre maggiore interesse sia a nuove intese con altri atenei sia ad accordi nuovi da stringere con altri comuni in tal senso resta in piedi con Sciacca l'ipotesi dell'attivazione di un corso di laurea in economia del turismo da proporre nei locali dell'istituto Sant'Anna ma occorre trovare prima la copertura economica il comune di Sciacca lo ricordiamo è socio del cupo di agrigento e contribuisce annualmente alla sopravvivenza del polo distaccato con circa 30.000 euro a fronte tra l'altro dei pochi iscritti provenienti dalla città il comune di Sciacca anche per il 2016 ha mantenuto inalterata la propria iscrizione al cupa ma valuterà già a partire dal bilancio 2017 se mantenere o meno l'adesione come più volte sollecitato dall'attuale opposizione consigliare un gruppo di studenti del liceo scientifico Enrico Fermi corso di studi in scienze umane ha visitato oggi il centro di accoglienza per richiedente asilo politico di Sciacca un incontro che si inserisce nel quadro di un progetto denominato integrazione e legalità vediamo integrazione e legalità questo è il nome del progetto del liceo scientifico Enrico Fermi di Sciacca corso di studi in scienze umane che oggi ha visto la trasferta di un gruppo di studenti presso il centro di accoglienza per richiedente asilo politico il cosiddetto SPRAR gestito dalla cooperativa Arcobaleno di Sciacca un momento di confronto con chi fuggendo da conflitti e avvestazioni ha cercato riparo in Europa rischiando la vita in una delle tante traversate dall'Africa una bella opportunità per far conoscere agli studenti quello che è la possibilità di integrare la scuola con un centro di accoglienza in questo caso una comunità alloggio richiedente asilo politico uno SPRAR per cui per noi è veramente motivo di fierezza quello di poter esprimere attraverso le informazioni la formazione dare tutti quegli elementi che possono poi in futuro a questi studenti che si parla di scienze sociali possono poi acquisire e spendere da un punto di vista scolastico e poi nella vita di tutti i giorni la nostra scuola ha intrapreso un percorso di documentazione che ha interessato lo studio della nostra Costituzione quindi un modo diciamo indiretto per fare educazione alla cittadinanza e questo percorso si è snodato prima all'interno delle classi ha previsto dei momenti di incontro i ragazzi della comunità sono stati ospiti nostri in occasione della giornata dei diritti dell'infanzia e dell'adolescente e c'è stato quindi un primo momento di contatto a seguito del quale poi è stato ulteriormente sviluppato un approfondimento seguito dai colleghi di diritto da avvocati che hanno spiegato cosa significhi ottenere per questi ragazzi che arrivano come insomma prodotto dei flussi migratori che tutti ben conosciamo cosa significa ottenere una cittadinanza quali sono i problemi che interessano i ragazzi e quindi questa giornata si situa all'interno di un lavoro molto più ampio crediamo nella possibilità è un liceo delle scienze umane ovviamente molto attento a tutto ciò che riguarda i servizi erogati a favore della persona quindi crediamo che la scuola debba essere un'importantissima occasione di formazione anche sul campo l'intento era proprio quello di far capire i vari processi che avvengono dal momento dell'ingresso alla fuoruscita che punta soprattutto all'integrazione del ragazzo da tutti i punti di vista sia dal punto di vista legale ma soprattutto dal punto di vista sociale perché spesso i nostri ragazzi non conoscono io mi riferisco ai ragazzi italiani cosa avviene all'interno di una comunità da quando il ragazzo entra fino alla fuoruscita e abbiamo potuto dimostrare attraverso la nostra esperienza l'integrazione nel nostro territorio come avviene un progetto quello del liceo scientifico Enrico Fermi che si concluderà con una pubblicazione contenente l'esperienza degli studenti che sarà presentata ad un concorso indetto dal ministero dell'istruzione L'iniziativa a sostegno della Casa del Volontariato di Sciacca si svolgerà domenica 12 marzo al Teatro Samona una rappresentazione teatrale per la regia del professore Enzo Randazzo il cui incasso servirà per sostenere le attività della struttura nata in un bene confiscato alla criminalità questa mattina conferenza stampa di presentazione vediamo Sarà destinato alla Casa del Volontariato di Sciacca struttura inaugurata qualche mese fa in un immobile di Piazzetta bevi l'acqua confiscato alla criminalità l'incasso della serata di domenica 12 marzo quando al Teatro Samona verrà portata in scena la nana per la regia di Enzo Randazzo l'iniziativa ha lo scopo di sostenere le attività della Casa del Volontariato L'opera è di Emanuele Navarro della Miraglia che ha scritto il primo romanzo verista italiano e il primo romanzo anche con il femminicidio perché presenta una Sicilia bella una Sicilia che dà un messaggio di speranza di conciliazione di perdono di amore che prevale sulla vendetta prevale sulla gelosia prevale sui pregiudizi della tradizione siciliana noi abbiamo portato quest'opera con successo già ben quattro volte al Teatro L'Idea di Sambuca e il gruppo la nana che lavora con me è fatto di giovani di professionisti insomma siamo 36 elementi pensi hanno ritenuto che fosse bene presentarla e mettere al servizio di una bella causa quella del volontariato il lavoro la rappresentazione ideale che noi abbiamo fatto quindi convidiamo moltissimo che l'opera possa avere successo perché più successo avrà l'opera più il nostro compito di servizio al volontariato si renderà utile e di prospettiva diciamo anche una struttura che per funzionare ha bisogno del sostegno di tutti e l'auspicio è che quella di domenica possa essere la prima di una serie di iniziative finalizzate a sostenere le attività della casa del volontariato di Sciacca è un sostentamento effettivamente alla casa del volontariato abbiamo trovato chi ci dona tutto questo sempre sotto forma di volontariato sotto forma di beneficenza facciamo il 12 marzo al Teatro Samonà una rappresentazione teatrale siamo invitati tutti per vedere questa bellissima opera e per sostenere la casa del volontariato di cosa ha bisogno questa struttura per poter adeguatamente funzionare un po' di tutto però effettivamente di tutti forse di tutti e di tutti questo senz'altro però noi e la raccolta fonde serve per le spese vive della casa del volontariato a collaborare con il Cobo Pro il coordinamento di associazioni di volontariato che gestisce la struttura c'è anche il CESVOP che oggi rimarca l'importanza per il territorio di una realtà come la casa del volontariato il CESVOP ha il ruolo di supportare le associazioni di volontariato che appunto vogliono attivare delle azioni sul territorio e che vogliono generare un cambio di mentalità proprio aperto alla solidarietà e a quello che è sostenere l'altro l'iniziativa della casa del volontariato è un'iniziativa importante per il territorio di Sciacca perché attraverso anche questo spettacolo di beneficenza si vuole anche in qualche modo raccogliere del denaro che possa essere utile a sostenere le spese vive della casa del volontariato ma si vuole offrire l'opportunità a tutti i cittadini o comunque a tutte le associazioni presenti sul territorio di far parte di questo gruppo che appunto vuole promuovere la solidarietà Serata conclusiva del progetto di integrazione sociale portato avanti dall'Istituto Valden questa sera alle 19 al centro civico di Menfi la manifestazione conclusiva denominata Pro Sitavero è stata curata da Michele Buscemi da Lucia Alessi che vedrà susseguirsi uno spettacolo teatrale contro la violenza sulle donne dal titolo Io non ho paura ma ne ho avuta e la presentazione dei laboratori di musica fumetto ed abilità sociali utilizzati come strumento di aggregazione tra ragazzi di diverse provenienze le attività rientrano infatti nell'ambito del progetto VAI verso l'aggregazione interculturale finanziato dall'Unione Europea e portato avanti dall'Istituto Valden con la partecipazione del Comune di Menfi che ha messo a disposizione nel centro civico di Via Palminteri e il sostegno della locale consulta giovanile adesso vediamo il libro che ci consiglia oggi la libreria Mondadori La medicina ha ottenuto straordinari successi guarire malattie letali ridurre sofferenze prolungare la vita il nostro benessere però dipende anche da fattori non indagabili con esami e non curabili con farmaci il disagio di convivere con l'incertezza il bisogno di oggettivare la propria salute l'esagerata fiducia nelle potenzialità della tecnologia e ingenti interessi economici ci spingono verso una medicina che può essere inutile o addirittura dannosa troppa medicina di Marco Bobbio edito è in Audi Continua la rassegna libri una spremuta con l'autore presso la biblioteca comunale di Ribera domani alle 17 la volta di Nicoletta Bona l'insegnante di Licata che presenterà il romanzo Il mio Dio è nero la storia di un artista che sfida la vita non scende a compromessi per nessuna ragione al mondo a costo di sfidare la vita in nome della sua arte siamo allo sport al tennis Nino Armenio Domenico Caracappa Nino Elia Diego Cruz Bogdan Leonte giovanissima allievi della scuola tennis Enrico Emmi Francesco Sclafani Andrea Grammatico Thomas Bach e Nicolo Di Prima sono i componenti della squadra saccense di Passione Tennis che parteciperanno al campionato nazionale di serie C maschile campionato che prenderà il via domenica prossima 5 marzo 28 le squadre ai nastri di partenza suddivise in 4 gironi l'esordio per il team saccense sarà domenica alle 10 contro il Calta Palermo era l'ultima notizia siamo in chiusura grazie per essere stati con noi gli aggiornamenti tornano puntuali nelle prossime edizioni arrivederci grazie a tutti grazie a tutti